Poracci bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi. Oggi in questo episodio ricchissimo torniamo a parlare di collezionismo perché ho avuto il piacere e l'onore di intervistare Paolo, un collezionista che è riuscito a portare a termine un'impresa per me sensazionale. Paolo ha infatti completato il full set del Nintendo 64, ovvero ha messo in collezione tutti quanti i titoli che sono stati pubblicati su questa storica console. Capite che non è roba che si vede tutti i giorni e infatti da questa chiacchierata ne sono uscito veramente arricchito perché abbiamo parlato di tutto, di collezionismo, di passione per i videogiochi, di condivisione di questa passione, ma poi soprattutto ho scoperto tantissime cose sulla storia del Nintendone e della sua distribuzione. Questo perché Paolo non solo è un grandissimo collezionista e appassionato ma è anche una fonte inesauribile di informazioni su quel periodo storico della Nintendo. Per questo lo ringrazio veramente di cuore per la disponibilità e vi invito a seguirlo sui suoi profili social Nostalgia64, trovate tutti i link in descrizione, dove condivide con regolarità immagini della sua straordinaria collezione. E poi ancora una volta un grazie di cuore a Domenico di Otogi Retro Games che non solo sponsorizza questo video, ma che inoltre, grazie anche all'aiuto di Alberto, mi ha messo in contatto con Paolo. Rendendo così possibile quest'intervista, e ve lo dico da subito, questo qua è solo l'inizio, perché nelle prossime settimane arriveranno altre interviste esclusive con ospiti che ci mostreranno delle collezioni assurde e ci apriranno un mondo su quella che è stata la storia di Nintendo. Quindi, se i video del genere vi piacciono, sapete cosa fare. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Allora Paolo, innanzitutto, grazie mille per la disponibilità, grazie mille per essere qui, come stai? Grazie, grazie a te per l'invito, come sto? Stai bene, un po' emozionato ovviamente. Sono più emozionato io di te, perché oggi veramente c'è tantissimo da scoprire, e sono curiosissimo di farti un sacco di domande, perché oggi si parla di collezionismo, collezionismo però di alto livello, perché te sei un grandissimo collezionista che è riuscito a chiudere un'impresa che per me è incredibile, ovvero quella di completare il full set del Nintendo 64, PAL, ITA, credo, poi ci spiegherai meglio. Però prima di entrare nei tecnicismi e entrare proprio nel dettaglio, volevo intanto sapere qual è la tua storia con questa console, se l'hai scoperta da subito, se hai iniziato a collezionare da subito, perché molto spesso, in realtà, anche se amore a prima vista, poi uno decide di fare il full set in un secondo momento, oppure la scopre, insomma, magari non proprio durante l'epoca della pubblicazione. Insomma, dimmi un po'. Sì, mi permetto solo di dirti che in realtà la collezione è full set mondiale. Oh, bellissimo! Beh, allora ancora meglio, ancora meglio. Brutto da dire perché sembra una cosa di, come dire, di arroganza, però vabbè, ci daremo a precisare. No, 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 giustissimo, giustissimo, giustissimo. Allora, diciamo che... Vabbè, la mia storia con Nintendo 64 inizia ai tempi, in realtà, proprio nel 97, che è l'anno in cui è uscita la console in Europa. Io prima di Nintendo 64 videogiocavo un pochettino a casa con i sistemi che avevano i miei fratelli, che erano un bel po' più grandi di me, quindi con uno Spectrum, poi un mio fratello si era comprato il Mega Drive, poi nel frattempo magari giocavo a casa di amici, con NES, Super Nintendo, insomma, e così via. Credo che qualcosa che vi ha fatto accendermi un po' la lampadina è stato quando mio fratello aveva venduto il Mega Drive, quindi eravamo rimasti scoperti a casa, e io iniziavo ad avere anche un'età, insomma, avevo quasi 11-12 anni, nel 97 avevo 12 anni, dove quindi volevo una console mia. Ed era comunque... l'epoca già PlayStation stava già iniziando ad emergere, era già uscita da un pochettino, magari il boom non era ancora arrivato, però tra, insomma, i miei coetani stava iniziando già ad emergere PlayStation, io mi ricordo che, appunto, avevo un mio compagno con la PlayStation, un altro col Sega Saturn, e io dovevo decidere, appunto, che cosa prendere, alla fine, stupito, avete tutti, anche me stesso, l'ho preso in Nintendo 64. Mi ricordo che, appunto, lo provavo in un negozio di giocattoli, dove c'era un chiosco, un chiosco, anzi. Non ero per nulla abituato, ovviamente, al pad, che era un pad totalmente nuovo, insomma, il tricorno, io comunque ero abituato, quindi, con i giochi bidimensionali, a usare la crocetta, e quindi mi ricordo che, quando facevo queste prove, in realtà, muovo la telecamera di Mario, perché neanche mi ero accorto che quello stick analogico serviva per farlo muovere. Quindi, toccavo la crocetta, vedevo che si muoveva la telecamera, e, quindi, in realtà, il primo impatto è un po', insomma, molto strano. Per la mia cresima, nel novembre del 97, quindi qualche mese dopo l'uscita europea, che era stata a Marzolo, anche italiana, avevo, appunto, preso la console, insomma, come regalo, insieme con Mario 64. Diciamo che io, come forma mentis, già mia, comunque, collezionavo fumetti, Disney, o anche cosettine Lego in generale, quindi, fortunatamente, i giochi presi all'epoca, insomma, piano piano, poi li ho tutti conservati, quindi la console che ho è ancora la mia originale, con la scatola e tutto. Bellissimo, bellissimo. Lo stesso Mario 64. L'unica cosa che ho fatto, purtroppo, ma in realtà, poi, cioè, ci sta all'epoca, è che avevo seguito il consiglio di un mio amico che mi aveva suggerito di chiudere alcune scatole con dello scotch su un lato per non farle rovinare. Uno scotch trasparente, poi in realtà, sono riuscito anche a rimediare. Però, però, sono contento che, comunque, avevo tenuto tutto, ho sempre tenuto tutto questo, quindi questo poi mi ha aiutato moltissimo nel, nel proseguo della collezione. Quindi ho iniziato, piano piano, con i giochi che ci si poteva permettere al tempo, che poi, insomma, sappiamo che sono da quattro, costavano anche parecchio. Costava, sì, 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 non ero facilissimo trovarli, costavano, quindi, chiaramente, riuscivi magari a raccimolare i soldi per le feste comandate, magari per il tuo compleanno, per Natale, non so, per la promozione, e quindi, piano piano, comunque, si stava ampliando, insomma, la mia collezione, l'ho sempre seguita la console, quindi dal 97 fino, sono arrivato fino al 2002, nel senso che, ho aspettato poi il lancio del Gamecube, cioè io con il 64, non ero, tra virgolette, un Nintendaro, ma lo sono diventato da quel momento, e sono sempre rimasto fedele, perché ricordo che, non so, altri amici, quando il 64 stava un po' scemando, magari, erano, per una pastica, so, al Dreamcast, o la Playstation 2, perché, appunto, il Gamecube era ancora lontano, il lancio, invece, noi sono rimasto fino all'ultimo giorno, e poi avevo preso il Gamecube al lancio, tra virgolette, sono stato anche un po' pioniere, non è che sia un merito, però, ero iscritto già a eBazaar, che era il sito che precedeva eBae, eBae non c'era ancora in Italia, c'era questo altro sito eBazaar, che poi, quando eBae arrivò in Italia, compro proprio i Bazaar, e quindi, magari, tra, penso, 2000, 2001, avevo già iniziato anche a comprare qualche gioco, usato, quindi a risparmiare già un pochettino, mi ricordo anche quali sono stati i miei primissimi acquisti su i Bazaar, sono stati Gauntlet Legends, avevo un classico, un gioco poi multiplayer, molto bello, ho giocato con i miei fratelli, tra l'altro, poi mi ricordo un almanacco Nintendo, che racchiudeva, tipo, le migliori recensioni, i migliori articoli della rivista dell'Official Nintendo Magazine Italiano, questi mi ricordo come i primissimi acquisti. Ho continuato, magari, a complicchiare qualcosa, diciamo che, magari 2001, 2002, avrà avuto 50, 60 titoli, che in realtà, sono moltissimi, pensando al, cioè, a quando magari nel 1998 aveva una decina, insomma, nei primi anni, però avevo già iniziato ad ampliare, appunto, approfittando del, che già compravo su internet, oppure, del fatto che stiamo uscendo le nuove console, quindi potevi trovare qualcosa, a prezzo budget, quindi già 50, 60 titoli, poi ho rallentato, perché appunto, sono passato a seguire il Gamecube, ho seguito lui, e così via, è possibile che ogni tanto, mi saltasse, insomma, il ricordo di un vecchio gioco, e quindi me lo procuravo, sempre, appunto, magari su ebay, poi quello che in realtà mi ha fatto scattare la molla, per il collezionismo, insomma, il completismo, è stato un amico, che lui, aveva anche lui 64 al tempo, poi l'aveva rivenduto, e dice che io l'avevo ispirato, mettendo un post su Facebook, con una foto della mia collezione, insomma, come erano sistemati i giochi, l'avevo ispirato a ricomprarsi tutto, e lui nel ricomprarsi tutto, stava comprando, proprio tutto praticamente, e quindi anche a me, mi è venuta questa molla, e quindi ti ha ispirato lui, che si è ispirato a te, esattamente, e quindi anche io ho iniziato a comprare, quindi, diciamo, prima quelli tutti europei, poi, europei in realtà è pal, che poi magari ne parleremo, ci sono anche delle esclusive australiane, che fanno penare i collezionisti, diciamo, poi ho iniziato ad allargare, comprando qualche gioco, che non era mai uscito pal, che però al tempo desideravo, perché comunque compravo tantissime riviste, proprio sognavo, come pensiamo a tutti noi, guardando le riviste, le anteprime, le fiere, quindi ho deciso a comprare qualche gioco, americano soprattutto, che al tempo magari, sognavo, mi mancava, e quindi allarga qui, allarga lì, alla fine, ci sono, sono in ballo, poi io sono il primo, che conosce, cioè anche i limiti del collezionismo, cioè ci sono tanti giochi, fatti un esempio di football americano, che magari non giocherò mai, e so che, cioè in un mondo normale, è una stupidaggine, magari andare a comprare qualcosa, eccetera, eccetera, però, ero in ballo, ho voluto ballare, e comunque poi mi fa piacere, credo di aver chiuso la collezione, ormai, cinque, sei anni fa, spendendo anche mai cifre importanti, che sono però molto lontane, per fortuna, insomma, da quelle, sì, poi, per farti un esempio, mi guardo spesso i ricordi su Facebook, e da poco ho visto questo ricordo, dove chiedevo quasi aiuto al pubblico, tipo dieci anni fa, forse anche di più, sull'acquisto di Hercules, però costa 40 euro, adesso ma ricosta dieci volte tanto, capito, a trovarle adesso, a questi prezzi, poi l'avevo comprato, per fortuna. Beh, guarda, è molto interessante, insomma, la tua storia, innanzitutto perché hai avuto la lungimiranza di non vendere nulla, non buttare niente, trattare tutto bene, poi soprattutto con il Nintendo 64, le scatole di cartone molto delicate, non è una cosa affatto scontata, e poi anche il non aver subito il fascino della PlayStation, perché comunque in un momento in cui, diciamo, venivi da un retaggio che non era da Nintendaro, non avevi uno storico con Nintendo, ma nonostante questo ti sei fatto affascinare dal pad molto particolare di Nintendo 64, da Super Mario, insomma, mi ha colpito come cosa, è molto interessante. Intanto volevo chiederti, giustamente tu mi hai detto, è un full set mondiale, ma ti chiedo una precisazione, questo significa che semplicemente hai preso tutti i titoli PAL e ci hai aggiunto poi le esclusive giapponesi e americane, oppure hai completato i full set di non penso tu abbia fatto così, oppure... la prima che hai detto, io sono partito con la base, quindi se un gioco è uscito in tutti i mercati, io quel gioco ce l'ho PAL, ok? Quindi ho partito la base è stata questa, poi se il gioco esiste nordamericano e giapponese, perché ce ne sono un po' di questo tipo di esclusive, ce l'ho nordamericano, e poi ho le esclusive giapponesi. Poi capita, ma insomma ne parleremo anche, che ho alcuni giochi ce li ho in più versioni, per diverse insomma ragioni, di collezionismo, completismo, una cosa particolare, originale, quindi la base è quella europea, e poi trovate Nordamerica per le esclusive, e poi Giappone per le sue esclusive, o anche il 34DD, non so se ne arriveremo a parlare. Esatto, questo ti volevo chiedere poi, insomma se in questo full set c'era anche questa periferica, diciamo abbastanza sfortunata. Hai detto esclusive PAL europei, come ti poni nei confronti del PAL ITA? Per esempio io, dalla mia ignoranza, correggimi, mi sono reso conto che molto spesso ci sono sì i PAL multi, però per esempio penso a Majora's Mask, lo stesso PAL multi può avere un diverso libretto di istruzioni, con diverse lingue sopra, per esempio il PAL ITA vero vero vero, è quello che ha anche l'italiano nel manuale di istruzioni, e quindi non so come ti poni te nei confronti di queste cose. Sì, allora, dove è possibile il PAL ITA, anche se poi in realtà, ma ne andiamo a vederlo, il PAL ITA quasi sempre è combinato con un'altra lingua, mentre anch'io, ne ho visto appunto il tuo episodio sul Gamecube, sul Gamecube, insomma il triangolo è azzurro, lì è proprio una cosa evidente, proprio a livello di grafica, quando li sistemi, in realtà nel 64 è molto più imboscato, anche se in realtà, se poi si va a vedere, esistono dei triangolini, che si possono trovare in alcune scatole, o in una pieghettina della scatola, però non così visibili, diciamo che la distribuzione Nintendo, ha avuto un po' di problemi in realtà, all'epoca del 64, perché si partì con Jig, che era appunto già distributore Nintendo, ma partire dal NES, dopo la prima fase Mattel, il 64 inizialmente è stato distribuito dalla Jig, tutti i giochi Nintendo, e non solo, anche i giochi di terze parti distribuiva, però la Jig diciamo che fa lì fine 98, più o meno, comunque seconda metà del 98, infatti per farti un esempio, Zelda Corrine of Time, non esiste col bollino Jig, ok? E' uno dei primissimi giochi, arrivati in Italia, già senza bollino, dopodiché, in realtà venivano distribuiti, dalla nuova Cepirati, che probabilmente, faceva parte di giochi preziosi, quindi c'era il rivale di Jig, che in realtà controllava sotto un certo modo, in realtà Jig usando un altro marchio, poi ci sono delle cose molto strane in realtà, che a Jig già fallita, esistono dei giochi, come per esempio Pokémon Snap, dove però c'è nella scatola, non l'adesivo, scritto Jig Electronics, quindi come se comunque, in alcuni casi, hanno continuato a usare il marchio, comunque, dove è possibile appunto, i giochi proprio col bollino Jig, però come ti ho detto, sono giochi solo fino alla seconda metà del 98, diciamo così, dopodiché, c'erano tanti giochi che arrivavano, anche con la scatola in italiano, però il distributore era diverso, poteva essere Halifax, come, non so, ci diverte, se e così via, ci sono appunto dei casi molto particolari, come dici tu, per Zelda Majora's Mask, dove la scatola è uguale in tutta Europa, quindi l'italiano lo trovi dappertutto, nel retro delle scatole, avevano tipo sei lingue, se non vado errato la scatola, però invece il libretto italiano no, è combinato, se non sbaglio, con le lingue nordiche in questo caso. Sì, sì, esatto, esatto. Non ho, diciamo, fonti ufficiali, però, per quel che ricordo io, Majora's Mask, secondo me, venne distribuito in Italia un po' più tardi, perché appunto, proprio per dei problemi legati al distributore, infatti, io mi ricordo che, in un negozio di giocatori, dove andavo spesso, solamente qualche mese più tardi, arrivò ufficialmente, con tanto di poster promozionale, però, mesi dopo l'uscita originale, secondo me, questo ha condizionato appunto anche le lingue dei libretti, perché penso che sarebbe un unicum, perché negli altri casi, se tu trovavi la scatola, con il retro in italiano, e poi, anche nel manuale, avresti trovato l'italiano, infatti, c'erano manuali appunto molto grossi, e comprendevano tutto, quello è il periodo migliore, tra i livelli di collezionismo, più facile, perché, puoi comprare il gioco in tutta Europa, per alcuni di questi, e hai la scatola e il libretto, insomma, come lo vuoi tu, insomma, neanche con l'italiano, e poi, tra l'altro, anche qui, una cosa molto strana, Jig non distribuisce più, a certo punto, il tuo gioco era, accoppiato Italia e Spagna, poi è arrivato un periodo, dove c'erano tutte le lingue nella scatola, una parte di questo periodo, gli giochi avevano anche il testo in italiano, sono pochi, però, sono giochi in Nintendo proprio, Nintendo, che sono Perfect Dark, Mario Party 2, tipo Mario Party 1, no, Mario Party 2, sì, Mario Party 3, no, di nuovo, poi sono, tipo, Mickey, Speed USA, i Pokémon, che sono un po' un unicum, perché è tipo lo Stadium, ma anche il localizzato in italiano, che è molto raro, per Nintendo, poi sono tanti, in realtà, tanti altri giochi in italiano, però, di altri distributori, ecco, questa è un po' la cosa particolare. Prima hai accennato anche al, al palla australiano, che è un po' un'anomalia, diciamo, del Nintendo 64, perché ci sono delle versioni PAL, però, appunto, per il mercato australiano, e sono anche delle esclusive, giusto? Ci sono delle esclusive, oppure... Allora, nel senso, in realtà, diciamo un po', sono quattro questi giochi australiani, di questi quattro, tre, sono dei giochi che sono stati rilasciati anche in Nord America, ok, e qualcuno, credo anche in Giappone, tipo Snowboard Kids 2, se non vado errato, il quarto di questi, che a volte andava anche a complicare i piani dei collezionisti, è, diciamo, solo australiano, proprio, però, è una variante di un gioco che è uscito anche in Europa, che sarebbe, il gioco in Europa e in America è Beetle Adventure Racing, in Australia, per ragioni di diritti, appunto, Volkswagen, in realtà, venne usata un'altra, un'altra casa automobilistica, che qui, insomma, non è neanche molto famosa, HSV, insomma, HSV, e quindi, appunto, l'X si chiama HSV Racing, con modelli di auto, appunto, e, a livello collezionistico, è un po' strano, perché, e quindi qualcuno dice, ma quanti sono i giochi pal, 242 o 243, perché qualcuno lo considera un gioco diverso, e qualcuno no, comunque, nel dubbio, ce l'ho, questo, ok, ed è l'unico proprio che può essere solo australiano, perché gli altri, uno poteva procurarsi, in realtà, nordamericani, diciamo così, che sono Starcraft, Snowboard Kids 2, e poi, Clay Fighter, anche, no, no, il seguito di Clay Fighter, è un'esclusiva americana, che è una delle più rari, in assoluto, tra i giochi più difficili da reperire, in assoluto, ci sono queste esclusive americane, che, originariamente, erano giochi, che dovevano uscire solo da blockbuster, ok, quindi, molto difficile da trovare, con scatole manuale, perché immagina, quante volte sono passate di mano, queste scatole, da chi lo noleggiava, e tra questi, c'è appunto, Clay Fighter, Sculptor's Cut, che è il seguito di Clay Fighter, che è uscito anche in Europa, e quello è proprio uno dei giochi, considerati in assoluto, appunto, più difficili da trovare. A proposito di, di rarità, diciamo, oggi, i prezzi sono completamente esplosi, sono fuori di testa, insomma, ci sono tantissimi titoli, che sono praticamente inaccessibili, quando invece ti sei, diciamo, addentrato in questa, in questa impresa del, del full set? Quali erano già i titoli, non ti dico tanto costosi in assoluto, ma che ti hanno fatto penare, perché erano difficili da reperire, magari non uscivano fuori, o anche in un periodo dove era molto più semplice collezionare. Sì, ma allora, restando in Europa, uno che avevo difficoltà a trovare, era sicuramente Blues Brothers 2000, che poi era anche un titolo, che al tempo, appunto, mi affascinava, perché lo vedevo nelle riviste, era un platform, c'erano le note musicali, tipo Ben Giocazui, quindi, mi piaceva molto. Quello ho faticato un po', poi addirittura, ne ho riuscito a trovarne due, in un lotto, quindi poi uno l'ho anche rivenduto, per alimentare, insomma, quello che mi rimaneva. Blues Brothers 2000 sicuramente, mi viene in mente NBA in The Zone 2000, e anche lì poi, diciamo che anche seguendo le riviste dell'epoca, ti rimanevano alcuni dubbi all'inizio, su che cosa era realmente uscito, poi adesso è molto più semplice, trovi appunto database, aggiornatissimi di tutto. Al tempo ti capitava, scogliano delle riviste, soprattutto con le riviste stranieri, io comprovo molte riviste inglesi al tempo, anche oltre a quelle italiane, andavo nelle edicole che dei giornali internazionali, compravo appunto le riviste inglesi, e lì trovavi proprio, in teoria, l'intero catalogo di giochi usciti, e magari trovavi l'altra dei giochi che poi non erano mai usciti. Oppure, raro però, poteva capitare che un gioco, in realtà uscito, sfuggiva, magari non veniva da te recensore, quindi non lo trovavi lì, quindi NBA in The Zone 2000, non lo trovavi dappertutto, ma sarà uscito in Europa, poi cambiava nome, a seconda del mercato, eccetera, eccetera, quindi anche quello. Poi avevo faticato, mi ricordo. rata-tac, mi viene in mente, però, troppo magari sull'Europa, faticato, però preso per tempo, e quindi poi magari, sapete altre cose, magari giapponesi, più che altro, che io ho finito con i titoli giapponesi, lì ho dovuto sudare un po' di più. Senza parare di quelli del DD, che però c'erano due, molto rari da trovare, che chiedevano anche aiuto a un amico che stava in Giappone, di guardare, perché loro usano tipo Yahoo, Yahoo Auctions, esatto, per le venite, di guardare lì, insomma, probabilmente ho fatto comprare qualcosa anche lì, direttamente. Ah, immagino. Il full set del DD è composto, allora scusa, perché non l'abbiamo neanche detto, il full set europeo e mondiale, da quanti titoli è composto? Diciamo 388. Ok, con quella cosa del Beetle Racing, che può diventare... più uno, sì, poi, diciamo che nella collezione, ho detto, io ho sicuramente, super abbonatamente i 400 titoli, perché poi ho acquistato anche, che so, dei giochi che in Europa, a seconda del mercato, sono usciti con nomi diversi, per farti un esempio, quindi magari quello, c'ho più versioni, Michael Owen, World League Soccer, che tipo è uscito così, in Italia, Regno Unito, però in Francia si chiama Telefoot, che dovrebbe essere il nome di un emittente francese, e lo stesso in Germania, un altro nome ancora, e così via, anche per qualche altro titolo, insomma, esistono... qui non è solo il nome, è proprio la copertina differente, quindi insomma, questo che ha affascinato un po'. Il DD sono dieci titoli invece, di cui alcuni sono, diciamo, come fossero degli applicativi, diciamo così, perché sono, sai, il Mario Paint, il Mario Artist, e così via, e poi c'è anche qualche, l'Effeziro, l'espansione, e poi c'è anche qualche gioco vero e proprio. C'era il primo Dosh in The Giant o il seguito? Non ricordo. I primi due, ne sono usciti due, per DD. E poi quello per Gamecube, era una sorta di remake del primo. Esattamente. Però non ricordo se il due è uscito per Gamecube. No, 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 solo uno. Non è mai uscito, però è rimasto esclusivo. No, no, solo uno. E il DD, vabbè, è stato complicato, immagino, da chiudere il set. Sì, da chiudere il set assolutamente sì. Come console in sé, il DD comunque, quando lo cercavo io, si poteva trovare. Ma io lo pagavi, però lo trovavi, insomma, se cercavi su eBay, c'era in quel momento in venta, sicuramente. C'erano due giochi che invece non trovavo, e mi hanno fatto penare, almeno un anno. E uno di questi era appunto Doshin, chiamiamolo due, in realtà il titolo originale è molto più complicato. E poi un gioco di golf. Japan, golf, pro, world tour, questi due sono quelli che mi hanno fatto penare in assoluto. Li ho trovati su Instagram alla fine. Un po' particolare, sì, un canale non di vendita, però li ho trovati là, avevo contattato questa persona che li aveva in collezione, insomma, è stato felice. Ma era in Europa? Sì, in Italia, in Italia. Ah, pensate, pensate. In Italia ci sono tanti collezionisti un po' nel sottobosco, nel senso, capito, non sarebbe chiamato così, cioè che non si fanno vedere, tra virgolette, però esistono. Io, troppo, sono avanzativo in alcuni gruppi Facebook, ma non come collezionista, proprio come, per condividere memorie sui giochi, capito, mi piace molto questo aspetto. sicuramente ci sono tante altre persone che, non lo so, preferiscono a tacere, per raggiungere di trovare. E vanno scoperti, bisogna andare nel sottobosco, giustamente. Stanarli. Ci sta, ci sta. Invece un altro aspetto che mi incuriosisce, per quanto riguarda il parco macchine, gli hardware, hai pensato di, cioè, ti basta avere la console, magari nelle varianti regionali, oppure vai anche per i bundle, edizioni speciali, tipo, mi viene in mente il Mario Pack, ma ce n'era anche una di Donkey Kong 64, se non sbaglio, di console. Per mia vergogna, per chi magari mi ascolta, in realtà a livello hardware sono abbastanza limitato, diciamo così, quindi, ne ho diversi, anche alcuni colorati, però, non ho la collezione di tutte le console, cosa che invece qualcuno, come dire, ha pensato a quello, perché l'IntoSonda 4, forse la prima, comunque aveva la particolarità che a un certo punto uscirono tantissime varianti diverse di colore, alcune anche molto belle, molto particolari, il blu, il verde acqua, insomma, alcuni di queste ne ho, non ce li ho tutte, e poi a livello di bundle, anche qui ne hai visto in realtà veramente tanti, tu ne hai ricordato qualcuno, uno era il Mario Pack, c'era uno di Donkey Kong, che purtroppo è molto più bello in realtà quello americano, perché aveva anche la cartuccia gialla, invece quello europeo è bella la scatola da fuori, però poi la cartuccia in realtà era la grigia standard, ma ce ne sono tantissimi, molti neanche usciti in realtà in Italia, ma anche combinazioni particolari, tipo un bundle dove c'è i64, per farti un esempio, un bundle con la seconda del mercato, dove magari andava più forte, poi in Francia andava molto, la Nintendo, uno dei feudi è la Francia, assolutamente, diciamo, molti più bundle, io lì sono abbastanza limitato, mi accontento, diciamo, ecco. Fortunatamente, perché secondo me, insomma, ti sei tolto una bella rogna, sia a livello di ricerca, ma anche economica, e poi comunque, appunto, adesso che citavi tutti questi bundle, è interessante, perché a livello anche collezionistico, non è molto bazzicata come console, Nintendo 64, cioè, nel senso, non è che c'è, si vedono tutti i giorni queste cose, per esempio, i bundle, io non li avevo, non li avevo mai sentiti, forse è una console che ancora paga adesso, l'essere stata completamente oscurata, dallo strasuccesso, dallo strapotere della prima, della prima PlayStation, e ancora se ne parla troppo poco, forse. Anche se sono, trovate in parte, d'accordo con te, nel senso che, sicuramente, la PlayStation l'ha oscurata, proprio a livello, diciamo, anche mediatico, però questo è venuto tutto in Italia, e diciamo, secondo me, in alcuni mercati un po' minori, cioè, il nostro italiano magari è un po' intermedio, però proprio il suo PlayStation è stato quello di aver portato le console, ma in molti mercati, per dire anche dell'est Europa, dove prima, insomma, il videogioco era una chimera, oppure arrivava con le console con molto più ritardo, perché, per farti un esempio, in realtà, nei Stati Uniti o in Canada, il 64 ha rivaleggiato, comunque, con la PlayStation, se andiamo a vedere le classifiche software del tempo, c'erano dei Natali, letteralmente, comunque, dominati da Nintendo, Nintendo World, è una console molto occidentale, e infatti, intanto, mi piace anche studiare, così numeri statistiche, spesso vediamo il Super Nintendo, grande successo, il 64 fallimentare, diciamo così, anche se fallimentare non è la parola adatta, in questo caso, e in realtà, i numeri non sono tanto diversi, in occidente, tra il Super Nintendo e il Giappone, che ha fatto la differenza, tra le due macchine, dove in Giappone, proprio il 64, è stata una console marginale, per certi versi, mentre il Super Nintendo, assolutamente no, se invece andiamo a vedere, appunto, gli Stati Uniti, potrebbero essere veramente, un paio di milioni, la differenza, cioè, siamo rimasti, infatti, non sono fatto una console molto occidentale, proprio a livello anche di titoli, una console di prima persona, per esempio, ci sono tantissimi sportivi, ci sono tantissimi giochi di wrestling, in occidente, soprattutto Stati Uniti, magari, e Canada, ha fatto comunque, un grande successo in Italia, che, anche perché, appunto, la PlayStation cambiò proprio anche il, la percezione stessa di gioco, sì, il binomio, che era bambino videogioco, ma non era più, il binomio anche della distribuzione, trovavi prima nei negozi di giocattoli, la console, invece, iniziò, magari, a trovarlo, tanti negozi, anche di informatica, e non solo, quindi cambiò proprio questo, però, per farti un esempio, teoricamente, il 64 ha venduto più del Mega Drive, che comunque sembra una console, che consideriamo molto più popolare, sì, a livello di percezione, sì, 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 poi conta anche il tuo mercato, magari, provo a farti un esempio banale, per il 64, comunque in Italia, sicuramente mercato, comunque al tempo, un po' sotto, i big europei, che erano Francia, Germania e Regno Unito, comunque c'erano delle riviste, che uscivano, c'era una rivista, c'era l'Officio Nintendo Magazine, c'è stato per un periodo, N64 Magazine, N64 Pro, comunque tre riviste diverse, vuol dire che, insomma, qualcuno c'era. Uscendo un attimo, dall'ambito collezionistico, e più da appassionati, i titoli top per la console, quali ci metti? Anche Mari, che ne so, qualche hidden gem che hai scoperto, quando sei andato a completare il full set, quando ti sei imbarcato in questa avventura? Ah, vabbè, secondo me il top, anche per questioni di rispetto, per me, Mario e Sontà 4, appunto, è il primo gioco che ho avuto, che mi ha folgorato, poi non è una cosa solo mia, è anche una cosa oggettiva, è un gioco che ha cambiato proprio, il videogioco, insomma, c'è un prima e un dopo, Mario e Sontà 4, sicuramente, Zelda Ocarina of Time, ovviamente, è un altro gioco che ha messo un prima e un dopo, e qui, una cosa che mi piace, insomma, raccontare, abbiamo visto che io, appunto, prima non seguivo le console Nintendo, quindi, ovviamente Mario lo conoscevo, conoscevo Donkey Kong Country, e così via, Zelda, in realtà io non lo conoscevo, ok, quindi sono arrivato al mondo Nintendo, senza conoscere Zelda, e quindi mi ricordo, quando guardavo le prime anteprime, nei giornali, diciamo, bello, affascinante, assolutamente, però, c'erano delle cosettine che mi facciano storcere il naso, tipo, vedevo le bombe, non so, un gioco fantasy, medievaleggianti, diciamo, così ci sono le bombe, poi quando ci ho giocato, per fortuna, niente stonava, però, non conoscendolo, mi sembrava un po' particolare, Zelda Ocarina of Time, Benjo Kazui, che insomma, per alcuni è superiore a Mario 64, ha un'atmosfera incredibile, guarda, lo sai, questa cosa ci penso sempre, oggettivamente, non ci puoi fare niente, è uscito dopo, quindi, ha delle cose, secondo me, fatte meglio, però, si ritorna sempre al discorso, senza Mario 64, non ci sarebbe mai stato Benjo Kazui, quindi, va contestualizzato, poi, insomma, chi è nato con le 64, come me, a livello di videogiocatore, c'è una particolare affezione, per i titoli rare, quindi, per Benjo, per Donkey Kong 64, per GoldenEye, per Factor, che proprio, era un'altra mamma, insomma, c'era la Nintendo, c'era la Rare, e non sapevi dove finiva una, iniziava l'altra, quando ci fu, insomma, l'accessione a Microsoft, cioè, ha fatto un colpo al cuore, cuore spezzato, cioè, mi pesa ancora, veramente, sono stato contentissimo, di, quando, hanno fatto Benjo, insomma, i DLC per Super Smash Bros, per Switch, comunque, rivederlo, su una console Nintendo, è stata comunque un'emozione, assolutamente, di giochi un po', meno popolari, che però, ti dico la verità, alcuni di questi, li avevo già comprati all'epoca, io mi divertivo moltissimo, con War's Armageddon, che, War's, sicuramente, è famoso, però, non è tra i titoli più citati, su 64, ne vengono in mente, ma i primi molti altri, invece, mi divertivo moltissimo, mi divertivo molto, con, anche i giochi di wrestling, che, appunto, su 64, non ho forse trovato il meglio, all'epoca, ci giocavo, poi, i multiplayer, erano veramente, eccezionali, Silicon Valley, vedo che è un gioco che, chi l'ha giocato, ha, comunque, un bel ricordo, un gioco folle, oppure Glover, che era un gioco dove, in personale, ha un guanto, guanto, sì, bellissimo, molto particolare, c'è una fisica da rispettare, quindi, questi hanno proprio un posto speciale, nel mio cuore, però, in realtà, adesso, ti ho tagliato, insomma, i Mario Kart, super classico, giocavo a molti giochi di calcio, Ace 2000, io, anche qua, sono andato, in realtà, prima con FIFA, perché mai conoscevo FIFA, ma mi sono anche divertito, su 64, con FIFA 98 e 99, poi, ho scoperto gli Ace, non mi sono più staccato al tempo, facevo cose folli, giocavo, tipo, col San Marino, mi costruivo i giocatori, tipo, una squadra che era fatta di giganti, tutti che erano alti al massimo, però, il portiere era il più basso di tutti, il portiere era un nano, tra virgolette, e gli altri erano giganteschi, questo, tutte cose che ho fatto, magari, nel tempo, mentre aspettavo il Gamecube, perché è stato un anno vuoto, senza uscite, allora, Mario mi divertivo così, poi c'è Conker, Paper Mario, in realtà, giochi ce ne sono tanti, io faccio spesso il confronto con il Gamecube, che è una console che ho seguito, per il primo giorno, quindi ho visto la sua genesi, e la differenza, secondo me, il Gamecube ha più ottimi giochi, il 64 più capolavori, cioè giochi da 10, il 64, insomma, ne ha suonato tanti, eh. Adesso il Gamecube sta venendo rivalutato tantissimo, no? Retrospettivamente, però mi ricordo all'epoca, che c'era un po', non ti dico la delusione, però il continuo confronto con il Nintendo 64, e i giocatori un po' più navigati, quelli che avevano un po' più di età alle spalle, un po' portavano avanti quel, quel, si stava meglio prima, si bello, però comunque il Nintendo 64, aveva un altro, un altro sapore, un altro colore, e ci sta, cioè non, non lo metto in dubbio, poi soprattutto, se si è vissuto in prima persona, quella determinata stagione del gaming, sicuro la si apprezza anche molto di più, che magari riscoprendola retrospettivamente, però è anche vero che, se vai proprio a pesare le due line-up, da una parte c'hai Sunshine, dall'altra c'hai Super Mario 64, e già questo ti dà, ti dà, insomma, due pesi completamente diversi, però insomma, io poi del Gamecube sono innamorato, poi vedo che anche te dietro c'hai, vedo i bonghi. Sì, io ho centinaia di giochi per Gamecube, te l'ho detto, poi il fatto di averla seguita, da quando era ancora il Dolphin, sono affezionatissimo, comprata al lancio, seguita fino alla fine, assolutamente, infatti, non è neanche giusto paragonare, se l'ho appena fatto, diciamo, però è normale, è stata una console più conservativa, il Mario tridimensionale l'avevi già fatto, era difficile ripetersi, ovviamente, e lo Zelda, per quanto sia bellissimo Wind Waker, poi in realtà è uscito anche il Twilight Princess, anche lì lo Zelda tridimensionale l'avevi già fatto, è stato difficile ripetersi, insomma, e così via. Immagino quindi, diciamo che possiamo affermare che il Nintendo 64 è la tua console preferita in assoluto? Sì, sì, assolutamente, senza ombra di... Però, a livello collezionistico, c'hai qualche altra cosa su cui sei particolarmente ferrato? Oppure? Vabbè, io comunque alcune cose le ho recuperate, perché c'è, non avevo il NES e il Super NES, poi appunto li ho acquistati, ho tutte le console Nintendo, ho anche il Virtual Boy, per farti un esempio, Wii, Wii U, ho il... ho l'IQ Player, non so se lo conosci. Con lo cinese? Sì, sì, che in realtà è più ragazzo del 64. Sì, più o meno, 64 con i giochi, insomma, già in memoria. A livello collezionistico, oltre al 64, beh, secondo me è il GameCube, insomma, la mia seconda isola felice, però per fortuna, senza esagerare, insomma, mi capita di comprare ancora qualcosa, di voler chiudere qualche mini set interno, però appunto senza esagerare. A me piace moltissimo, in realtà, fuori dalla console, le riviste, quindi quelle ci ho conservate. Infatti, prima hai raccontato che comprabbi tutto proprio. E anche lì ho chiuso dei set, quindi oltre a tutte quelle italiane dell'epoca, Nintendo, non so, ma ce li ho, ho tantissime riviste e collezioni complete inglesi, ho tutti i Nintendo Power, che sono quelle americane del periodo del 64, ne ho anche tedesche, francesi, e poi mi piacciono moltissimo i cataloghi, per cui sono affascinato dai cataloghi, mi capita ancora di comprare. Ho anche alcune cataloghi, proprio dei rivenditori, quindi che so, c'ho un catalogo che veniva dato ai rivenditori, era Amico Joe, dove ti spiegava, c'è un catalogo, ho qui un foglio, in realtà una brochure che ti spiega, Mario il 64, cosa devi spiegare al cliente, quindi qual è l'obiettivo, quindi ho tante cose più riservate ai negozianti, anche cartelloni, insomma, varie. Infatti, infatti vedevo sullo sfondo, intravedevo le... Sì, c'ho un banjo, ma ne ho variati altri, anche più ingombranti. L'ultimo, se ti voglio vedere, Nintendo 64 è, invece a livello di accessori, perché abbiamo trattato sia l'hardware, che le console, che i giochi, ma gli accessori invece? Accessorio, diciamo tutti quelli ufficiali, ma sono un po' di più di quelli che uno si ricorda, perché appunto, oltre al Rumble, o il controller pack, quindi la memory, l'espansione, ovviamente, poi c'è il transfer pack, che appunto era per comunicare, insomma, con i giochi del Game Boy, ho anche tipo un kit per la pulizia della console, poi ho alcune cose legate, saluto a dei giochi giapponesi, quindi c'ho il biosensor, teoricamente appunto dovrebbe captare le tue frequenze, era legato a un Tetris, che era uscito solo in Giappone, quindi a far andare più veloce il Tetris, a seconda delle tue frequenze, ho una canna da pesca appunto, che era uscita solo in Giappone, il controller per i treni, anche questo per un Densha Dego appunto uscito in Giappone. Ovviamente i bundle dei giochi più accessori, immagino che te, insomma, sei andato, penso per esempio a Star Fox, il Big Box di Star Fox, quello che c'è, però anche il piccolino, perché nella libreria, insomma, ci sono fatte tutte le due. Giustamente. Sì, qualche altro bundle particolare, tipo Mario Kart 64, che c'è in Giappone, con un Joypad bicolore, o mai così via, c'ho qualche altra particolarità, insomma, del genere. E questo che ti ho detto, mi ha fatto sì, che la collezione non è solo quelli, ma c'è qualche doppione, che può essere appunto, questo là è la Tewars, Big Box, la scatola regolare, ti ho detto un Mario Kart giapponese, il Mario Kart PAL, un Donkey Kong 64, ma con la cartuccia gialla americano, è quello appunto PAL, oppure alcuni giochi, dove in teoria, c'è il corrispettivo europeo, di quello giapponese, ma non è proprio così, nel senso, soprattutto legato a giochi di calcio, che magari il motore è lo stesso, però magari in Giappone, avevano una particolare licenza, la licenza del campionato giapponese, ok, quindi l'ho considerato, come se fosse un gioco un po' diverso, e quindi, ho visto anche quello, oppure alcuni, anche per il gusto, di avere un gioco di un mercato particolare, quindi che so, cioè un gioco di, o di Hong Kong, oppure Asian version, per un Turok, o di Taiwan, poi qualcuno l'ho comprato, a che mi piace, non per tutti, ho fatto anche qualche foto, infatti, dove cerco di avere un gioco, per ogni paese, quindi che so, c'ho un FIFA 98 spagnolo, poi un gioco uscito solo nel mercato inglese, un gioco con la copertina solo del mercato tedesco, italiano, insomma e così via, e poi anche extraeuropea, per fare, insomma un po', bellissimo, vabbè ci sta, ma queste cose poi ti vengono ancora adesso, oppure hai ufficialmente finito, e il Nintendo 64 rimane là, oppure ogni tanto spuntano quelle cose, e dici, ma sai che quasi quasi, ma per esempio, ogni tanto qualcosa voglio ancora comprare, mi vorrei comprare, che sono un Doki 64 giapponese, perché contiene delle carte, ok, costano anche abbandonanza poco, normalmente i giochi giapponesi, questo tipo di giochi, quindi qualcosina così, insomma mi carte, poi spero, in realtà è di dire, basta, insomma, mi amo, però può capitare, insomma senza accanimento, però sì, può capitare, che non mi metto a cercare. Ci sta, ci sta, guarda ti faccio vedere solo una cosa, perché prima hai citato i cataloghi, ed è stato uno dei miei ultimi acquisti, ma infatti, io non sono un collezionista assolutamente esperto, come te, che ha così tanta roba, però recentemente ho recuperato questo, perché me ne sono innamorato, che era un catalogo gig, però dentro è vuoto, è soltanto il raccoglitore, ed è, e niente, è proprio, cioè capisco perfettamente quello che dici sul fascino, sul fascino dei cataloghi, secondo me sono una cosa, sono una cosa pazzesca, solo che anche questi ormai da recuperare, a parte che non è proprio semplice trovarli, ma anche a livello di prezzi, se li cerchi completi in ottime condizioni, sono proprio, ti dirò di più, è possibile che quello sia stato mio, è possibile, perché ne avevo due o tre, uno l'avevo diciamo venduto, insomma barra un amico, poi era poco inventa, tra l'altro uno dei pochi apprezzati abbordabili, perché molti insomma sparano cifre alte, anche per quel minore, migliaia di euro, e io lo usavo questo, inizialmente, quando ancora non avevo le schede, perché poi mi sono procurato anche le schede, quelle del negoziante, lo usavo per mettere i cataloghi, che trovi all'interno delle scatole del 64, quindi dentro una busta trasparente, c'erano i cataloghi, quindi giravo e vedevo ogni catalogo, insomma diverso dall'altro, cioè ogni catalogo dei flyer, lì in volantino, lo usavo così. bella idea, infatti devo iniziare a trovargli un'utilità, perché probabilmente, almeno nell'immediato futuro, non lo riempirò, visto che è abbastanza complesso, però questa dei cataloghi, è una cosa che mi sta prendendo recentemente, ho iniziato a recuperare, insomma è tanta roba. Senti, io non lo so, penso di averti rotto abbastanza le scatole, in realtà è stata per me una chiacchierata, dove ho imparato tantissime cose, anche a livello di distribuzione del Nintendo 64, ti ringrazio tantissimo, per la disponibilità, ma anche insomma per avermi fatto conoscere così tante cose, di cui ignoravo completamente l'esistenza, non penso che andrò a fare il full set, Nintendo 64, non lo consiglio neanche io, ecco, ecco lasciamo con un consiglio, a chi si avvicina al mercato, ai più giovani o in generale a chi si avvicina al mercato, te da collezionista di vecchia data, consiglieresti a qualcuno, di entrare oggi nel mondo del collezionismo. Allora, in linea di massima ti dico di no, perché purtroppo si è perso, cioè, adesso è veramente, ma non speculativo, di più, cioè viene considerato una forma di investimento, che per carità, poi ognuno fa quello che vuole, con i suoi soldi, però a me mi dà fastidio il fatto che c'è una persona, che sta comprando un gioco, lo sta sottraendo a un appassionato, che lo vorrebbe perché magari lo vuole giocare, o anche per la sua collezione, o perché era un suo ricordo di bambino, lo sta sottraendo per tenerselo nascosto, per andarselo a rivendere, o cinque anni dopo, per andare a comprarsi poi, non lo so, fare tutt'altro con quei soldi, sempre i suoi, quindi puoi fare quello che vuole, però, cioè lo sta togliendo dal mercato, solo per mera speculazione, che poi verrà in vista qualche altro, infatti mi capita di seguire, che appunto moltissime persone, che tu reputavi mari appassionate, comprano tutto, nel giro dei due anni si rivendono tutto, perché dicono adesso, mi sa che inizio a comprarmi, non so, i fumetti di Peppa Pig, per poi, su cui non interessa nulla, sanno che mari cresceranno, e così via, quindi, questo è brutto, secondo me, poi ti ho detto, ognuno liberissimo, però mi dà fastidio, vedere di sottrarre, poi c'è l'altra grande piaga, insomma, delle repro, che veramente, per fortuna, quando compravo io, insomma, andavi tranquillo, non era ancora diffuso, ma adesso veramente, prima di spendere, certi soldi, e non hai neanche la sicurezza, che stai comprando qualcosa di originale, c'è una brutta sensazione, sicuramente, e quindi, insomma, si vede in giro, nei gruppi, insomma, tantissimi guide, per provare a riconoscere, però sarà sempre più difficile, e questa, insomma, è una brutta macchia, però certo, collezionare è sempre bello, assolutamente, io dico, collezionate, il mio consiglio è, collezionate seguendo il vostro cuore, quindi qualcosa che veramente, vi emoziona, perché io appunto, quando parlo di questi giochi, mi vengono in mente, me e ragazzino, che giocavo con i miei amici, sono tanti anedoti, che mi riportano, ah, mi ricordo questo gioco, facciamo questo e quest'altro, più ti riportano alle amicizie, insomma, a questi valori, quindi, collezionate col cuore, assolutamente, spesso, quando vuoi comprare, hai sempre quella sensazione, che devi comprare per forza, perché è l'ultimo, ce l'avevo anch'io, chissà, non lo rivedrò mai più, non è così in realtà, ok, quindi, calmiamoci, ci sarà più o meno, sempre una seconda occasione, cioè, prima di finire sotto gli usurai, tra virgolette, pensateci, insomma, riportiamo tutto a livelli più umani, e niente, poi, insomma, qui non si vende nulla, ragazzi. Beh, infatti, io chiudere proprio su questo, che secondo me, l'errore più grande, poi, è considerare queste cose come un investimento, perché comunque, se lo fai come giustificazione verso te stesso, se sei veramente un collezionista, un appassionato, uno che sta legando qualcosa di emotivo a quell'oggetto, non lo rivenderai mai, a meno che proprio le cose non vanno malissimo, non facciano delle cose particolari. Per carità, massimo rispetto, è quel caso. Però, però di base non, cioè, posso illudermi da solo, dicendo, vabbè, ma questo salirà nel tempo, però, se poi intanto non vendi nulla, non lo so, per me non ha proprio senso. Ti dico, infatti, a me non, appunto, non mi interessa assolutamente sapere, nemmeno quanto può valere la collezione, o quanto vale adesso quel gioco, cioè, posso saperlo solo per aiutare un altro che vuole comprarlo, ma a me non mi interessa, non devo vendere, quindi può valere 10, può valere 1000, e lì. Sono d'accordo al 100%, Paolo, ti ringrazio ancora tantissimo, e niente, ci sentiamo alla prossima, parlando sempre di collezionismo. Ciao. Grazie a te, a presto, ciao 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 ciao. Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile, mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime, e anche live esclusive, dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione, e ricordati che Poracci si diventa! Ciao. Ciao. Grazie a tutti.